Ciao a tutti. Noi di Io Posso abbiamo progettato un servizio di navetta per accompagnare i nostri ospiti alla terrazza tutti al mare. In questo video voglio spiegarvi come votare online, per il nostro progetto ed aiutarci ad ottenere un finanziamento da parte di Aviva Community Found. Anzitutto andate sul sito www.AvivaItalia.it e cliccate in basso sul banner di Aviva Community Found. Una volta entrati, è necessario registrarsi come utente. Potete farlo sia via mail che via Facebook. Se vi registrate via mail, dovete attendere un messaggio di conferma e poi accedere con i dati che avete scelto. La registrazione via Facebook invece è più pratica e vi permette di votare subito, soprattutto se avete già una sessione di Facebook aperta. Una volta scelta questa opzione, è sufficiente autorizzare per proseguire. una volta arrivati nella sezione Vota i progetti, cercate il progetto, tutti a bordo e cliccateci sopra. Ora attribuite tutti i 10 punti a vostra disposizione, e cliccate su Vota per confermare. Per aiutarci ancora di più, condividi il tuo voto sui social. Invita i tuoi amici a fare altrettanto. Condividi questo video. Il progetto vincitore sarà scelto tra quelli che avranno ricevuto più voti entro il 30 marzo. Grazie per il tuo sostegno. Grazie per il tuo sostegno.